Guida all'app Cherry Bank. Dove vedere l'Iban del tuo conto online Cherry Bank? Prima di iniziare, ti ricordiamo che puoi visionare in qualsiasi momento il tuo IBAN sia da PC sia dall'app. Hai fatto l'accesso all'app Cherry Bank? Iniziamo! Da app è possibile visionare l'Iban, nella prima schermata, subito dopo aver completato l'accesso. Oppure dal menu, cliccando sulla mia situazione. E poi su saldo e movimenti. Ti ricordiamo che Cliccando sulla card, oltre a vedere il dettaglio conto, potrai condividere l'Iban, e personalizzare alias e colore card. Per qualsiasi necessità ti ricordiamo che il servizio clienti è a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13. Puoi contattarci al numero 800 0 9 8 5 2 2 per chiamate dall'Italia, Oppure inviare un'e-mail a contoonline.cherrybank.it